Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, avere cura del prossimo, dell'amalato, del povero, di quello che ha bisogno, dell'ignorante, questa è la pietra dei paragoni. Gli ipocriti non sanno fare questo, non possono, perché sono tanto pieni di se stessi che sono ciechi per guardare agli altri. Quando uno cammina un po' e si avvicina al Signore, la luce del Signore gli fa vedere queste cose e va a aiutare ai fratelli. Questo è il segno, questo è il segno della conversione. Non è tutta la conversione, la conversione è l'incontro con Gesù Cristo. Ma il segno che noi siamo con Gesù Cristo è questo. Curare i fratelli, quelli più poveri, quelli ammalati, come il Signore ci insegna nel Vangelo, per esempio di Matteo nel capitolo 25. La Quaresima è per aggiustare la vita, sistemare la vita, cambiare una vita. Il segno che noi siamo con Gesù Cristo è per avvicinarsi al Signore. Il segno che noi siamo lontani del Signore è la ipocrisia. L'ipocrita non ha bisogno del Signore. Si salva a se stesso, così pensa. E si travesti da santo. Il segno che noi ci siamo avvicinati al Signore con la penitenza, chiedendo perdono, è che noi abbiamo cura dei fratelli bisognosi. Il Signore ci dia a tutti luce e coraggio, luce per conoscere cosa succede dentro di noi e coraggio per convertirci, per avvicinarsi al Signore. E' bello essere vicino al Signore.